un approccio perfetto alla partita questo Empoli che sente il profumo di promozione la vuole attaccare a tutti i costi non vuole aspettare sì sì l'approccio abbiamo sempre fatto dalla prima partita finora è una cosa che abbiamo già nel DNA sapevamo che era una squadra forte che loro avevano qualità in attacco eravamo tutti concentrati sul pezzo e abbiamo fatto quello che volevamo che era vincere la partita vi ha aiutato un po' anche in settimana il fatto che forse si è parlato più del Brescia del momento del Brescia che arrivava dal momento positivo e meno dell'Empoli questa cosa vi ha caricato un po' l'allenatore vi ha detto pensate a voi che insomma abbiamo fatto 26 partite senza perdere sì sì pensiamo sempre a noi noi guardiamo partita dopo partita quando è finita l'ultima partita siamo già subito pensati al Brescia e noi pensiamo solo a noi facciamo le nostre cose e stiamo ottenendo buoni risultati abbiamo sempre parlato del gruppo e del gioco di questa squadra parlando del gruppo ho pensato subito a Matos per un motivo tu ormai sei un po' il sesto uomo di questa squadra nel basket quando c'è da fare la giocata decisiva dalla panchina si pesca Matos sì sì sono contento sto passando un buon momento ma anche tutti i giocatori che stanno passando un buon momento mi aiutano pure a fare bene a fare il gol però come ti trovi in questa nuova situazione un po' il parallelo che voglio fare è quello di Muriel non nell'Atalanta cioè esci dalla panchina e sei sempre decisivo contato 6 gol 3 assist senza contare l'autorete di Cernigoi nella partita poi decisiva da 3 punti sì sì mi hanno già parlato di questa cosa che sembra un po' Muriel che quando entra aiuta l'importante è che aiuta la squadra con il gol o con l'assist per vincere e adesso cosa manca cioè cosa si respira nello spogliatoio cosa manca proprio a questo Empoli per fare ancora non è finita ora già pensiamo già alla prossima perché sappiamo che sarà una partita dura e difficile è un campionato duro e ora pensiamo alla prossima partita guardando i numeri questa è la tua migliore stagione a livello di gol e tutto il resto e hai trovato una seconda giovinezza qui a Empoli cosa hai trovato di speciale? sì sì ma quando ho sempre giocato diciamo un po' attaccante secondo a punta anche al Carpi ho sempre fatto bene quindi secondo me magari è il mio ruolo questo però l'ambiente magari ti ha aiutato in particolare? certo certo qua è un ambiente bellissimo la società i compagni che sono brave persone nell'allenamento diamo sempre il massimo e questo ci aiuta a crescere